Un posto al sole, anticipazioni febbraio, Nunzio Guai, Viola affronta il caso Susanna. L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole del mese di febbraio 2023 promette ancora colpi di scena e clamorose rivelazioni. I riflettori saranno puntati ancora sulle vicende di Nunzio, alle prese con l'emergere della verità dopo le pesantissime accuse che gli sono state rivolte da Alice. Si tornerà a parlare anche della morte di Susanna, per i Viola e Nico, infatti, arriverà il momento di riaffrontare quel doloroso momento che avevano provato a mettere da parte. Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole del mese di febbraio rivelano che ci sarà spazio ancora per le vicende di Nunzio, dato che il ragazzo si ritroverà alla resa dei conti finale dopo le accuse di Alice. La ragazza confesserà di essersi inventata tutto ma, a quel punto, entrerà in gioco sua nonna, la Dark Lady di Palazzo Paladini non ha alcuna intenzione di vedere sua nipote nei guai e, nonostante l'amara verità, continuerà a giocare sporco. Marina, infatti, non si farà alcun tipo di problema a mettere nei guai il giovane Nunzio. Andando avanti così per la sua strada intenzionata a salvaguardare la rispettabilità della nipote e della sua famiglia. Senza alcun tipo di scrupolo nei confronti delle ragazzo innocente. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione di Alice, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di febbraio 2023. Rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al caso della morte di Susanna. Il processo è stato messo un po' da parte nel corso delle ultime settimane di messa in onda della soap opera serale di Rai 3. Ma nel corso dei prossimi appuntamenti, ci sarà spazio per l'evolversi della situazione. Nico e Viola dovranno affrontare le nuove fasi del leader giuridico legato alla morte di Susanna, entrambi coinvolti in questa triste vicenda. Si ritroveranno a soffrire e a dover scavare in quei ricordi che sembravano aver messo da parte. Quali saranno i risvolti delle indagini e del processo ai danni di Lello Valsano, responsabile della morte di Susanna, lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti. E poi ancora, le anticipazioni di febbraio della soap un posto al sole rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Diego. Il figlio di Raffaele comincerà ad avere dei seri dubbi sul conto di Lia Longhi che, dopo essersi impossessata dei gioielli, inizierà a destare non poco sospetti. A quel punto, Diego deciderà di indagare in segreto sul conto della donna di cui si è innamorato e scoprirà tutte le bugie e le menzugne che ha messo in piedi fino a questo momento. Il figlio di Raffaele Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.